Buongiorno a tutti, dallo chef Dario Masella di Estrofio Lombardia. Oggi vi andiamo a presentare un prodotto di Bondwell. Si tratta di un contorno pronto, un contorno mediterraneo, quindi a base di peperoni, zucchine e melanzane. Questo prodotto si presenta cubettato, già mediamente condito, pronto da essere saltato o cotto. Scaldato in microonde. Può essere un'ottima base per fare una caponata, quindi ci andiamo ad aggiungere delle olive, del pomodoro e facciamo una caponata, se no è un ottimo contorno da andare a spandellare. A questo punto mettiamo un filo d'olio. Stiamo volendo chiaramente scaldare, abbiamo già la panella già pronta, quindi questo punto andiamo a mettere un altro prodotto dentro. Un filo di sale. Nel giro di 6-7 minuti il nostro prodotto è pronto da essere servito. A questo punto il contorno è pronto e lo andiamo a infiattare. Andiamo a decorare con dei fiori, dei petri di fiordalizzo. che sono a qualche posto per fare delle mie colazioni, quindi si possono andare a mettere tranquillamente sul piatto. L'azienda è quella della Delebei, lo potete buttare e adesso noi andiamo a togliere il nostro coppapasta. Ecco qua, il nostro piatto è pronto per essere servito. Una buona giornata a tutti dal vostro Chef Mario Masella di Ristupio Lombardia. Ciao ciao! Ciao!